buongiorno oggi vi presentiamo questa bellissima seatibiza pensate che una vettura usata con poco più di 38 mila chilometri è un turbo diesel è un 1200 perciò adatto anche per neopatentati perché un 55 kg 75 cavalli molto bella bianca con cerchi imbruniti perché è l'allestimento high tech guardate come è tenuta questo motore è già pienamente in regola con le nuove normative per poter circolare senza blocchi ampio bagagliaio tipico della piccola spagnola con sedili posteriore sdoppiabili ruotino di scorta forse per noi la cosa più bella sono gli interni guardate che bello 5 posti la vettura voi guardate che belli gli interni bracciolo battitacco personalizzato high tech specchietti regolabili elettricamente e anche richiudibili sedile regolabile in altezza luci ad attivazione automatica cruise control viva voce bluetooth con radio in comando al volante controllo pressione pneumatici climatizzatore auto radio con lettore cd sistema multimediale da tutte le informazioni della vettura come potete notare da cui si connette anche il il navigatore viva voce bluetooth specchietto interno fotocromatico perciò si oscura automaticamente a seconda della luce che viene riflessa dalle auto posteriormente come potete vedere navigatore satellitare e vedete che non ci sono cavetti in giro perché si carica automaticamente dalla vettura essendo ufficiale per questa vettura del gruppo Volkswagen guardate come sono tenuti i sedili ripeto poco più di 38 mila chilometri e questi sono i risultati un motore in perfette condizioni siete neopatentati oppure no venite a vederle provarla sempre previo contatto telefonico così siete sicuri che la vettura sia ancora disponibile vi aspettiamo qui da noi in autosmile questa è veramente un'ottima occasione